La provincia di Milano ha donato 32.000 euro al cardinale Ranjit per terminare i lavori di costruzione della scuola St. Joseph di Negombo, nello Sri Lanka. Presidente Podessa, la provincia di Milano ha fianco anche delle popolazioni colpite dallo tsunami. In cosa consiste l'iniziativa di solidarietà? Io credo che sia importante che una realtà come la nostra provincia sia vicino a delle popolazioni che hanno subito una catastrofe così grave cinque anni fa. Esiste anche una comunità cristiana importante e noi ci sentiamo vicini anche dal punto di vista della condivisione della fede. L'aiuto che è stato dato mira a consentire che i bambini, i ragazzi abbiano una scuola adatta per crescere dal punto di vista dell'educazione e della conoscenza. Sua eminenza, come sarà la nuova scuola? È stata quasi completamente realizzata e stiamo facendo gli ultimi ritocchi e allora così con questi aiuti potremo completare tutto e aspettiamo una visita per fare una grande festa per l'apertura di questa scuola. Quanti bambini accoglierà? In tutto accoglierà 2.000-2.500 bambini. In che cosa si traduce la donazione di 32.000 euro al cardinale Ranjit? Sono 32.000 euro per portare avanti i lavori di ampliamento della scuola nell'Arcidiocesi di Colombo, nello Sri Lanka. Oggi abbiamo qui l'arcivescovo diventato cardinale, per noi è un onore averlo ospite, è un piacere riuscire a sostenere questa opera che vedrà la conclusione quando appunto a mesi verranno conclusi i lavori.